La voce della società necessaria dopo questa brillantissima vittoria della Pro Livorno Sorgenti sul Prato, l'ascoltiamo con Piero Ceccarini, arriva appunto questo risultato importantissimo non solo ai fini della classifica ma anche per quello che è il livello di soddisfazione, c'è tutto un lavoro dietro che poi tante volte non si tocca con mano però oggi sembra che tutto sia andato per il verso giusto, partiamo da questo risultato come hai visto questa gara? Il risultato rappresenta proprio Livorno Sorgenti un grosso risultato perché naturalmente giocavamo contro il Prato, una squadra che lottava per vincere il campionato, un centro grande della Toscana ma di là di questo poi naturalmente la cosa più importante da rilevare è l'alta concentrazione che i ragazzi hanno avuto per tutti i 95 minuti se avessero questa concentrazione in tutte le partite sicuramente ne vinceremo tutte e forse è l'Irso il lato da migliorare perché poi sotto tutti gli altri punti di vista i ragazzi, il gruppo rappresentano un po' il profilo che questa società si è dato dei calciatori, un profilo che al di là del fattore tecnico comprenda anche il fattore umano, il fattore di calciatori che hanno a cuore la maglia che portano indosso per tutti i 90 minuti e che quindi sono propensi al sacrificio durante il campo aiutandosi l'uno con l'altro tutti elementi che sono venuti fuori specialmente oggi il dispiacere è che in una partita del genere oggi non ci fosse stato il pubblico perché come avevamo già detto in tempi non sospetti la Pro Livorno Sorgenti aveva come obiettivo quello di avvicinare il più possibile i Livornesi a questa squadra, a questa società purtroppo questo virus per ora ce l'aveva impedito è stato un dispiacere vedere lo stadio completamente vuoto e avevamo gioito soltanto noi dirigenti e qualcun altro che ha potuto usufruire dell'accredito e quindi diciamo così rimane per ora questo rammarico ma noi speriamo, ci auguriamo che in futuro possano i Livornesi venire a vedere giocare la Pro Livorno e entusiasmarsi per i risultati La riflessione quanto mai opportuna se si considera che nella diretta Facebook della partita che la società ha messo a disposizione dei suoi supporter c'erano circa 300 persone collegate quindi si può immaginare quella che potrebbe essere stata la cornice di pubblico in questa occasione tornando ai protagonisti in campo uno su tutti Francesco Turini è un prodotto del Vivai oggi veramente ha brillato decisivo l'assist per il gol vittoria il suo è un percorso che può essere preso come simbolo di questa squadra e anche del lavoro della società dai giovanissimi B addirittura è salito tutta la trafila fino alla prima squadra c'è una linea che la società porta avanti e poi porta i suoi frutti Sicuramente sì, la società privilegia il settore giovanile, i giovani non c'è alcun dubbio quindi avere per loro uno sbocco anche dal punto di vista di calcio a livello diciamo così di tra virgolette professionistico partecipare a campionati a livello nazionale deve essere per loro un grosso stimolo in più quindi tutti possono avere questa possibilità tutti quelli che arrivano lì alle porte della prima squadra quindi si parla di giovani, di allievi d'elite, di ignores elite quindi tutti possono avere questa possibilità la società apre le porte e chi è in grado e chi risulta bravo sicuramente entra nella rosa entra a far parte del gruppo fa gli allenamenti con lo staff della prima squadra con i ragazzi della prima squadra quindi può, diciamo così, aumentare sensibilmente il proprio livello il proprio bagaglio tecnico un'altra considerazione è che oggi c'erano diversi osservatori di squadre professionistiche a vedere la partita questo ci riempie di gioia naturalmente saranno venuti anche a vedere qualcuno del Prato per darsi, ma intanto avranno anche potuto vedere i nostri giovani esattamente questa vittoria sicuramente dà un grosso slancio non solo la classifica ma anche a livello di morale entusiasmo ora però bisogna continuare perché il cammino è davvero ancora molto lungo non siamo neanche prossimi al giro di voi allora cosa si deve fare per mantenere la concentrazione per continuare insomma a lavorare con la massima determinazione e tutta la numiltà che richiede poi dove può arrivare a questo punto questa squadra sulla base di quanto sta esprimendo? ma questa oggi era una partita spartiacque l'avevamo detto perché soprattutto dal punto di vista psicologico perché incontravamo una delle favorite se avessimo superato l'esame ci avrebbe dato molto morale ci avrebbe accresciuto l'autostima in tutti nello staff nella squadra nella società e tutto quindi questo è avvenuto e noi ci auguriamo che tutto possa proseguire quindi come ho detto prima secondo me l'importante è mantenere la concentrazione che abbiamo visto oggi oggi la squadra era concentrata come in altre occasioni naturalmente però oggi era concentrata quindi io ero anche in tribuna positivo anche quando siamo andati in svantaggio perché a meno che non avessimo perso diciamo così la concentrazione ma sono riusciti a rimanere ancora in campo con la testa al posto giusto per cui bisogna continuare su questo passo continuando su questo passo possiamo affrontare tutti avviso aperto poi sarà al campo a dare a essere il giudice unico di questo gioco che poi è sempre questo che è sempre stato il campo e sempre lo sarà sotto questo punto di vista ringraziamo Piero Ceccarini buon proseguimento di lavoro grazie grazie a tutti grazie a tutti